Musica Tutto esaurito per il concerto di Katia Ricciarelli in programma il prossimo 5 settembre alle ore 20 e 30 nell'arena di Santa Barbara di Torello di Castel San Giove. Sindaco Paola Lanzara, il successo è determinato da questo boom di presenza. Salve, sì il successo è determinato prima di tutto dal nome internazionale che abbiamo portato qui a Castel San Giorgio la Ricciarelli, è un grande nome, il nome di una grande cantante lirica e quindi questo ha fatto sì che si determinasse subito il tutto esaurito per i biglietti. Erano pochi per la verità perché erano 500 biglietti ma sono andati a ruba. Tra ieri pomeriggio, stamattina alle 10 e 30 non c'erano più biglietti. Quindi proprio perché il nome è un nome che attira e quindi è importante e questo ci gratifica perché è una ripresa della normalità che è una cosa importantissima nel post-pandemico, nel dopo-Covid. Allora dobbiamo ringraziare tutti ad iniziare dall'ottima segretaria comunale la dottoressa Cecilia Fasolino estremamente puntuale e preparata che ha curato nei minimi particolari questa manifestazione al comandante dei vigili, il comandante Coltaldi e poi soprattutto alle associazioni quali la protezione civile, la Croce Rossa e la misericordia che sicuramente non faranno mancare la loro presenza e quindi cureranno questa manifestazione. Ripeto, le macchine saranno parcheggiate a Piazza Nassiria, ci sarà un servizio navetta che condurrà all'Arena Santa Barbara. Vice sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzare, rinnoviamo l'appuntamento nuovamente fissato come dicevamo per domenica 5 settembre alle ore 20 e 30 all'Arena di Santa Barbara della frazione Torel. Già esauriti i biglietti a disposizione gratuitamente al comune di Castel San Giorgio per lo spettacolo di Catea Ricciarelli in programma il 5 settembre alle ore 20 e 30 nell'Arena di Santa Barbara di Torel. Successo per l'iniziativa Vice sindaco Giuseppe Alfano? Se dice il famoso detto il buongiorno si vede dal mattino è proprio il caso di dire che questa manifestazione va proprio verso i cittadini che sono accorsi subito prontamente in maniera diciamo cronologica e tempestivamente all'ufficio di segreteria dove con grande trasparenza e con grande impegno la segreteria generale con la dottoressa Fasolino, l'assessore Giustina Galluzzo, il sindaco Paolo Lanzara anche col mio modestissimo aiuto di Vice sindaco Alfano abbiamo reso possibile questo germe nuovo della cultura che sicuramente bisognava che ci fosse a Castel San Giorgio come diceva ieri l'Ispettore Fasolino una nuova ventata di cultura perché dopo i due anni di pandemia quasi effettivamente c'è stato un momento di stasi. Bisogna ripartire Bisogna ripartire, siamo contenti perché anche nel rispetto del Green Pass questa manifestazione si tiene abbiamo informato il comando stazione Carabinieri, il comando di polizia locale allertato, la misericordia, la protezione civile, la Croce Rossa dove tutti sanno che in un momento di grande sicurezza bisogna partecipare e su inviti gratuiti. Si prevede quindi una grande affluenza di pubblico per il prossimo 5 settembre all'Arena di Santa Barbara di Torello di Castel San Giorgio perché è un evento importante, il quarto evento musicale a livello nazionale in Italia e poi c'è l'aspetto anche di colore in quanto per Katia Ricciarelli sarà l'ultimo evento Lavi in quanto poi il prossimo 14 settembre sarà chiuso nella casa del Grande Fratello. Lei già ha accennato prima tutta una serie di persone che si sono adoperate per la riuscita della manifestazione. Entriamo nel dettaglio tecnico dell'evento Canoro con il maestro Espeditore Marino e con canzoni classiche napoletane e omaggio a Pino Daniele. Sì, sicuramente c'è una sintesi di cultura e storia napoletana e musica ed è questo l'intreccio simbiotico importante che l'amministrazione comunale di Castel San Giorgio vuol far pervenire a tutta la cittadinanza. Ecco, le canzoni di Napoli unite a quella che è la storia partenopea è la sintesi di quelle canzoni che si ispirano da Espedito De Marino che è stato la creatura di Roberto Murolo. Ha avuto il piacere di ascoltarlo a Villa Calvanese 15 anni fa e posso dire sicuramente che egli rappresenta la continuità. Se a questo si aggiunge la presenza di Katia Ricciarelli che veramente è una delle star nazionali ed europee perché la sua voce veramente ha potuto illuminare tutti i palchi mondiali. Siamo veramente contenti e siamo sicuri che porterà a Castel San Giorgio un nuovo corso ancora di cultura e rappresentiamo questo che sia veramente un superamento del Covid. Ecco, vogliamo annunciare questa ripresa della vita a Castel San Giorgio e all'Agronocino Sarnese. Aspettiamo anche probabilmente, probabilmente, la presenza di Sua Eccellenza Prefetto di Salerno. Grazie Vice Sindaco Giuseppe Alfano e ricordiamo nuovamente l'appuntamento festato per domenica 5 settembre alle ore 20 e 30 presso l'Arena Santa Barbara della frazione Torello di Castel San Giorgio.